Ben trovati al consueto appuntamento con il meteo e con le previsioni del meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, per quanto riguarda le previsioni attuali, cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Nelle prossime ore la nostra regione verrà interessata dal passaggio di una debole perturbazione che causerà il passaggio di nubi per lo più innocue. Il fronte perturbato sarà seguito da aria relativamente fresca che determinerà un lieve calo delle temperature e un rinforzo del vento dai quadranti occidentali. Più nel dettaglio, invece, cosa ci attende per le giornate di sabato 8 marzo e domenica 10? Per domani, sabato 9 marzo, avremo cielo del regolarmente nuvoloso a nuvoloso con possibilità di qualche debole piovasco sul settore occidentale della regione. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà a dissolversi con il ritorno a condizioni di cielo poco nuvoloso entro la serata. Temperature in diminuzione, venti tradeboli e moderati da ovest e nord-ovest e mare da poco mosso a mosso. Per domenica 10 marzo, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, con maggiori schiarite sul settore orientale della regione. Temperature stazionarie, venti tradeboli e moderati da ovest e mare mosso. E per quanto riguarda la tendenza della prossima settimana, cosa puoi dirci? Lunedì le correnti si disporranno da nord con l'inserimento di aria fredda che determinerà una sensibile diminuzione delle temperature. Tra la serata e la giornata di martedì ci sarà la possibilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio, con nevicate in montagna al di sopra dei 1000-1200 metri. Si aprirà così una fase caratterizzata da tempo instabile e con temperature che si attesteranno su valori lievemente al di sotto della media del periodo. Per maggiori dettagli comunque invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it.